16 gennaio 2018 Tags, Torino Belotti, Cairo Mercato I commenti in questa pagina vengono controllati Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più a spray in particolare. Durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che, non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV abbiano contenuti volgari, osceni o violenti siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni più in generale violino i diritti di terzi promuovano attività illegali promuovano prodotti o servizi commerciali X mercato Torino articolo 9 vai alla home page